Ciao ed eccomi tornato con un nuovo video, di nuovo a casa a Milano, le feste sono quasi finite, domani è la Befana. Faccio un video tag che avrei dovuto fare già parecchio tempo fa, sono stato taggato, penso un bel po' di tempo fa, da Andre Moore, ciao Andre, finalmente riesco a farlo, anche se è un po' imbarazzante come tag, perché il tag ce la fai, devo superare un po' di prove e vedere se riesco a farle, perché altro le ho lette così, poi non l'avevo mai letto, ho visto quello che il video aveva fatto Andre, però non l'avevo mai letto, adesso che leggo le domande dico, va bene, iniziamo, ce la fai a leccarti il gomito con la lingua, ce la fai a leccarti il gomito, più di così, noiavaccio, 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 ce la fai ad infilarti un dito del piede nel naso, per fortuna che è nel naso, non è un'altra parte, vediamo se ci riesco, vediamo al momento se ho i piedi puliti, allora, il dito del naso, per tutti i feticisti, ecco questo è il vostro fatto, i feticisti, godete, ce la fai a mangiare un pezzo di limone senza fare nessuna smorfia, a me il limone piace da morire, buono, piace tutta la frutta aspra, ce la fai a dire il tuo nome con lo scotch sulle labbra, adesso è facile dai, vero, vero, per quattro oro, ma i peli, ho fatto pure una ceretta, ce la fai a dire, eh? ce la fai a cantare con in bocca qualcosa, a cantare, con qualcosa in bocca, un menù, vabbè, io metto il limone di prima, per l'altro non mi ricordo se l'ho lavato o almeno, questa è fai a cantare, sai che quando non lo lavato, avrai, uuu, insieme, ormida, oi, aspetta che cancio di canzone Cosa devo cantare? Oh no! Oh no! Iafaci Iafaci o no Iafaci Ce la fai a scriverti Come una penna o matita per gli occhi Qualcosa sulla fronte ed occhi chiusi Visto che sono stato a Roma Mi sono fregato la matita di mia madre Ehm... Con gli occhi chiusi Ma scrivo il mio nome Ma come deve scrivere? Oh my god Si capisce Vabbè dai quasi riuscito però aspettate Così sembra un coglione Dunque pulito Non siete più niente Poi continuiamo eh Domanda Ce la fai a creare qualche effetto editing figo mentre rispondi a questa domanda Sta stronza Ce la fai a trasformarti nel stesso posto Per utilizzare trucco editing Tutto ciò che vuoi Oddio sarei un cesso come donna comunque Va bene vielen Oh Mo Che anche... come.. come.. no dai Poi non sono un cesso da buttare io sabe 없어요 Oddio Magari ce la fai a convincere i tuoi iscritti a comprare qualcosa di assurdo ciao a tutti ragazzi altro che iPhone 5 o PS4 il vero must da avere per tutti quanti è la matita dell'occhitti se non vuoi essere l'unico sfigato del gruppo che non ce ha chiama subito fai il numero sopra a pressione e prenotati la tua matita dell'occhitti non essere l'unico sfigato che non ce l'ha mi hai scritti oggi quando posso prendermi di fame c'ho 4 gatti grazie e andiamo alla decima ed ultima domanda ce la fai a creare un'acconciatura folle? ok c'ho capelli e niente questo era il videotag ce la fai ringrazio ancora ancora ringrazio ancora Andrea Muro per avermi taggato chi taggo? chi taggo? vorrei taggare TheTasset Channel non so se l'hai fatto mi sembra di no se non l'hai fatto se ti va di farlo fallo sei libero di farlo come sei libero di non farlo se non ti piace o se non è il tuo genere comunque ti saluto ciao a TheTasset Channel e niente come ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao